Hanno perso entrambi i genitori, gli aggiungo amati genitori, in pochi giorni di tempo. Una tragedia duplice che ha lasciato un vuoto incolmabile, una solitudine profonda e un senso di impotenza totale. E questa è la storia di James e Rebecca Ryan, fratello e sorella, che viene fornita da parte dei medi inglesi. Infatti il loro papà, il nome Eric Stephen Peters Ryan, si è spento il 22 ottobre 2018 per colpa di un tumore d'intestino, mentre la mamma, Lil, ha perso la vita tre giorni successivi, tre giorni dopo. Una storia questa che ci fa rendere conto di come siamo effettivamente e fottutamente terreni dinnanzi alla morte. Abbiamo un'impotenza totale nei confronti di questa, costante nei confronti di questa realtà, che purtroppo si appalesa in tutta quanta la sua terribile e devastante realtà, ripeto. Questa storia ovviamente segna un vuoto incolmabile e profondo in quelle persone che la vanno a leggere e a trasmettere come me il medesimo. Non aggiungo altro, la storia è agghiacciante, ci si rende conto che probabilmente, ascoltando questa storia, esiste un destino più grande di noi, a cui noi siamo, diciamo così, purtroppo buttati dentro. Un saluto, grazie, al prossimo video.